Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come ogni giovedì, eccoci qua, questa volta si va a Grosseto, una trasferta abbastanza lunga, 4 ore di viaggio fra, vedremo come l'approccerà il balza, ottavi controquarti, sicuramente una partita non facile, però vedremo come si comporteranno Fabio e compagni. Quindi andiamo a vedere come si comporteranno i ragazzi di Andrej, la partita è molto difficile, molto complicata, 21 punti di distacco tra le due squadre, vedremo se se la caveranno e come se la caveranno. Quindi niente, tutto pronto, abbiamo sistemato la roba in macchina, quest'oggi andremo ad Altedo per poi andare conseguentemente a Grosseto, Fabio andrà con la squadra in pulmino e noi andremo per i conti nostri. Come sempre a Grosseto, intanto ecco Fabio che è lì che si fa i fattacci suoi, che risponde a voi direttamente su Instagram, a chi stavi rispondendo Fabio? Cosa vuoi? No, che cattirei, allora direi che possiamo andare, andiamo. Eccoci ragazzi, quindi in macchina siamo diretti dal Teto dove Fabio si unirà con i suoi compagni per andare verso il campo, noi adesso risponderemo come sempre alle vostre domande. Andiamo con la prima domanda da parte di Vincenzo Fucetola, domanda per Fabio, stai migliorando esponenzialmente le tue prestazioni in campo, ma oltre gli allenamenti con la squadra, ti alleni anche da solo? Beh, intanto grazie Vincenzo. Comunque diciamo che tra gli impegni che ho faccio un po' fatica a fare altri allenamenti, ogni tanto faccio qualcosina da solo, però diciamo che secondo me bastano quelli che faccio con il balza per migliorare, dando il massimo là. Attualmente faccio praticamente solo quelli. Poi di solito nei periodi in cui non ci sono allenamenti, per esempio in estate, allora la sì che mi alleno da solo e mi programmo io gli allenamenti. Andiamo con la seconda domanda da parte di Alessandro Guariento che chiede, domanda per Fabio, se fossi passato dal futsal al calcio a 11, ti saresti ambientato e abituato meglio? E se siete grandi? Grazie Alessandro. Grazie Alessandro, secondo me passare dal calcio a 5 al calcio a 11 forse è più facile rispetto a come ho fatto io, perché è uno sport più difficile, diciamo negli spazi stretti, quindi se si deve stare più attenti al minimo errore, anche il posizionamento di un passo a destra e a sinistra cambia molto nel calcio a 5. Poi soprattutto per un attaccante il lavoro tattico è sicuramente maggiore nel calcio a 5, nel calcio a 11 un attaccante è molto più libero a livello difensivo. Ok Fabio, andiamo con la domanda di Giovanni Mecca che chiede, una curiosità, ho notato che alcuni portieri nel futsal non indossano i guanti, come mai? Quali sono i pro e contro di questa scelta? Grazie. Su questa cosa farei rispondere più fre che comunque avendo giocato un pochino sia col calcio a 5 sia col calcio a 11 è sempre in porta, siccome può dare una risposta più dettagliata. Allora ti dico, io vado anche un po' ad intuito, cioè secondo me il fatto che nel calcio a 5 non si usano i guanti è anche una questione del pallone, sendo anche più piccolo. Sicuramente la mano libera, cioè senza il guanto è un po' più precisa rispetto a quella con il guanto perché appunto non c'è questo strato che può essere di lattice nel calcio, quindi è più facile in generale rinviare nel calcio a 5 secondo me senza un guanto. Però in generale la cosa molto importante è proprio un discorso di comfort e anche a livello di psicologia per un portiere avere un guanto può fare la differenza. Anche soltanto le stesse fasciature che molti giocatori si mettono è per una questione anche di sicurezza e di psicologia, di sentirsi più sicuri quando poi devono performare in campo. Domanda da parte di Adam a Fabio che chiede Che rapporto hai con i tuoi fratelli? Siete una bellissima famiglia, molto unita, complimenti, continuate così. Abbiamo un bel rapporto dai, un rapporto da fratelli. Un rapporto di odio e amore. Forse è più odio che amore, dai ci sta, un bel rapporto. A quale fratello vuoi più bene? Tu. A me? Grazie. No, no, è una domanda. Ha detto a me? Fabio ha detto che vuole più bene a Antimo, ragazzi. No, no, voglio più bene a Fred. No, come? Fratello infame, per te solo lame. Una domanda che invece arriva per voi è una domanda da parte di Cristiano Affinito che vi dice Per i telecronisti, avevate questa passione di fare la telecronaca anche da piccoli? Com'è nata? Iniziamo con Fred. In realtà un po' come tutti questa passione secondo me può essere nata già dalle prime telecroniche su FIFA. In generale comunque un po' come tutti, no? Cioè vedi una partita, inizia a commentare. Inizia amatoriale, ci piace farlo e ci divertiamo. Poi comunque abbiamo deciso da Antimo di affidare la telecronaca a me più da seconda voce. Questi lì siamo contenti che poi vi piacciono. Sì, no, sottoscrivo quello che diceva Fred Pocanze. La fine è una passione nata un po' per gioco. Anch'io commentavo le partite giocando ai videogiochi fondamentalmente. Non a FIFA perché sono di una generazione più vecchia. Giocavo a Pro Evolution Soccer e quindi mi divertivo a fare le telecroniche. La passione è nata per queste cose qui come penso che poi possa nascere un po' per tutti. E poi la vostri sviluppata tanto da diventare qualcosa di figo, dai, da vedere nei video. Seppur appunto lo facciamo in maniera amatoriale. Siamo dunque arrivati dal Tedo dove adesso Fabio si dividerà con i suoi compagni. Pulmina è già arrivato, noi come sempre siamo in ritardo. Però adesso è il momento di separarci e Fabio si dovrà preparare psicologicamente alla partita. Eccolo lì, il portiere più forte della Serie B di Futsal. Ciao amici. Si va a Grosseto. Arrivati a pranzo, sei felice? Sì, sono felice. Mi mancano queste trasferte lunghe in Toscana. Ci stanno, sono simpatico. Abbiamo anche il nostro sciamano qui come sempre. Come ti senti oggi, Cri? Male. Arrivati al Palabombonera dal nome spagnolo. Spagnolo-argentino. Il nome è un po' pesante. Ecco Fabio. Le aspettative sono altre del palazzetto. È bello? No, è un po' rosso. È bene. Eccoci quindi all'interno del Palabombonera. Siamo qui per assistere alla partita tra Atalanta e Grosseto e Balza. Partita molto interessante, molto complicata. Oggi però Fabio è arrivata da due partite comunque positive. Perché anche quella con il Bologna, nonostante l'abbiate persa, avete portato a casa una buona prestazione. Dunque, cosa vi aspettate dalla partita di oggi? Sì, è un buon periodo di forma. Loro sono una squadra molto ostica, sono molto forti. Però comunque dobbiamo puntare a metterli in difficoltà, dare il massimo e magari riuscire anche a strappare qualche punto. Dunque, anche te arrivi psicologicamente con il primo gol in Serie B di Futsal. Segnare aiuta a segnare? Oggi ne farei altri? Sicuramente segnare aiuta a segnare. Vediamo se ci riuscirò oggi. Io ce la metterò tutta. Psicologicamente è importante. Quindi spero di fare bene. Secondo te, magari una presenza tra titolare prima o poi arriverà e se il giorno per farlo è oggi? Non lo so. Comunque, diciamo che questa cosa è secondaria. Di fare il massimo e di fare bene nel tempo che mi viene concesso. Che comunque sta aumentando e ne sono felice. Poi ad essere titolare o no è secondario. È anche più relativo rispetto al Calcio a 11. Eccoci Fabio, anche con le mie domande e con le mie considerazioni. Sì, diciamo un Atalanta e Grosseto sicuramente che non viene da un periodo positivo. Tre sconfitte di fila, quattro. Se si aggiunge poi la vittoria per sé a zero a tavolino contro il Ponte d'Era. Quindi non navigano in buona acqua i toscani. Voi invece avete riacquisito un pochettino di fiducia e soprattutto tu hai acquisito più consapevolezza nei tuoi mezzi. Sì, è un periodo positivo per noi. Comunque c'è da dire che hanno avuto delle sconfitte loro, però sono state contro squadre molto forti. Hanno fatto contro le squadre più forti del campionato, quindi ci sta che l'abbiano perse. Restano comunque una squadra molto ostica, sono molto forti e quindi sarà difficile oggi. Oggi Fabio cercherà il secondo gol di fila? Beh, certo che ci provo, non so se ci riuscirò, però ce la metterò tutta. Ti abbiamo visto convinto, vediamo se ci riuscirai. Dai, noi lasciamo andare a far cambiare Fabio che è in estremo ritardo. E noi disponiamo tutta l'attrezzatura come sempre per raccontarvi quella che è la 22esima giornata del campionato di Serie B di Futsal, Atlante-Grosseto-Balsa. Eccoci finalmente ragazzi all'interno della pala bombonera di Grosseto per raccontarvi quella che sarà la 22esima giornata del campionato di Serie B di Futsal, Atlante-Grosseto-Balsa. La classifica comunque parla abbastanza chiaro, sono due squadre che distano di diversi punti in classifica, 21 per la precisione, Balsa 24, Atlante-Grosseto 45. Vedremo se questo distacco verrà dimostrato anche dopo. Eh sì, Fre, sicuramente una partita complessa anche perché l'Atlante-Grosseto è una delle formazioni più pericolose dell'intero campionato, nonostante nell'ultimo periodo non sia particolarmente in forma. Sì, sicuramente l'Atlante-Grosseto deve cercare di vincere questa partita, c'è una situazione in classifica molto interessante con i terzi che sono la San Giovannese, poi chiaramente ci sarà lo scontro diretto più avanti, però l'obiettivo di oggi è chiaramente quello di non perdere punti e posizioni. Dall'altra parte un Balsa che arriva comunque abbastanza bene questa partita sotto l'aspetto delle prestazioni, dall'altra come dicevi anche te l'Atlante-Grosseto. Prima delle ultime tre sconfitte con Mattagnanese o l'Impereggium e Bologna ha trovato comunque 11 vittorie consecutive, 33 punti sui 33 disponibili prima appunto del ultimo periodo un po' nero. Vediamo se oggi comunque reagirà. Andiamo a mettere su a posto l'attrezzatura. Entriamo quindi nel vivo di Atlante-Grosseto-Balsa. Ragazzi, oggi purtroppo abbiamo una bruttissima notizia da darvi, ovvero quella che Abra Kalaya, il fantasista, il mago del palazzetto dello sport di Baricella, è stato tagliato fuori per uno screzzo con la società, con il presidente, quindi purtroppo non farà più parte della rosa del Balsa da qui a fine stagione. Sì, sicuramente sarà anche una senza importante, lo sappiamo sia per qualità ma anche per le doti di leadership che ha Kalaya in questo gruppo. Vediamo se comunque magari Fabio ne approfitterà per salire anche un po' più in cattedra e prendere più centralità all'interno del gruppo. Tutto pronto in cabina di regia, manca ormai pochissima all'inizio della ventiduesima giornata del campionato di Serie B di Futsal, le squadre sono nel tunnel che stanno per entrare in campo, andiamo a vedere come si comporteranno. Ormai è imminente l'ingresso in campo delle due squadre all'interno del Palabombonera per assistere assieme a quella che sarà la ventiduesima giornata del campionato di Serie B di Futsal, Atlante-Grosseto-Balsa. E salsa la sticella per il Balsa dopo la partita con la posa a Bologna che ha portato in una vittoria per 4-1, oggi affronterà una delle mie squadre del campionato di Serie B di Futsal, ovvero l'Atlante-Grosseto. Scuola molto forte, molto solida, ma che viene in un periodo non ottimale. Eh sì, infatti i ragazzi di mister Alessandro Izzo sono reduci da tre sconfitte di fila a quattro se si aggiunge anche quella sul campo contro il Ponte d'Era, quindi insomma bisognerà riscattarsi. Inoltre nelle ultime tre partite si sono perse due posizioni in classifica, quindi questo comunque è un incentivo in più a raggiungere il terzo posto che qui vorrebbe a dire anche promozione diretta in Serie A2. Sì, sicuramente il periodo dell'Atlante-Grosseto non è positivissimo, però tutto sommato va ricordato anche delle precedenti 11 vittorie su 11 prima delle tre sconfitte, che equivale a dire 33 punti sui 33 disponibili. E oggi vorrà cercare di ritrovare i tre punti che gli mancano da un po'. Eh sì, intanto vediamo ora il saluto di Fabio, vediamo anche come si comporterà il numero 11 del Balza mentre scorre la classifica. Sicuramente Reduce da un periodo positivo, ha trovato il suo primo gol contro la Posa Bologna oggi. Cercherà, l'abbiamo sentito anche in pre-partita, di eguagliare quello che è stato il bottino centrato nel match precedente. Sì, sicuramente segnare aiuta a segnare, ce l'ha detto anche lui nel pre-partita. E tra l'altro Fabio sembra ripreso posizione in campo per quella che potrebbe essere la sua prima volta da titolare con la maglia del Balza. E prima di andare a leggere quelle che saranno le formazioni, ricordiamo l'assenza importante nelle file dell'Atlanta e Grosseto. Infatti manca Samuel Ibor di classe 93, capocannoniere dei Toscani con 19 gol in campionato in stagione. Ecco ora quelle che sono le formazioni, partiamo dal Grosseto che schiera Brunelli in porta davanti a sé come ultimo Baluardi, laterale destro Matteo, laterale sinistro Nil e come pivot da Silva. Dalla parte opposta invece per il Balza troviamo Di Bitonto in porta davanti a sé come ultimo Pozzi, laterale destro Di Mauro, laterale sinistro Conti, il capitano e come pivot Ferrante che si appresta a battere ora il calcio d'inizio della 22esima giornata. Gioca all'indietro per Pozzi, il numero 9 del Balza, uno sguardo davanti a sé, poi cerca di scucchiaiare ancora per Ferrante che lotta in mezzo al traffico. Poi bravo a riappropriarsi nel pallone Matteo che poi prova a sprintare, fallo di Conti sul 10, calcio di punizione. Comunque trova per la prima volta Fabio il titolare, vediamo come si comporterà, sicuramente una scelta inedita. Pronto a battere questo fallo laterale, vada Conti, uno sguardo davanti a sé, cerca una soluzione e poi va all'indietro da Pozzi. Bella la palla di Ferrante di prima per Fabio, un po' lunga, non ci arriva l'11. Rimessa in gioco ora in favore del Grosseto, adesso bella la verticalizzazione di Matteo Pernil, la parata di Di Bitonto, ma attenzione non è finita. Baluardi diventa di fatto un passaggio per Di Bitonto che disinnesca il pericolo e fa ripartire i suoi. Ferrante poi si va a riprendere il pallone e può ripartire il 24, sgasa e cerca una soluzione. Poi elegantissimo con l'esterno del piede destro a favorire l'inserimento di Conti che torna all'indietro. Nella terra di nessuno Di Bitonto non può toccare, dunque calcio d'angolo ora in favore del Grosseto. Bravo Ferrante a ostacolare il numero 10 che poi si riprende il pallone e va dal 3. Il resto di Bitonto va lunghissimo per Ferrante che fa partire il sinistro. Alato, primo squillo anche per il balza. Dunque Matteo che cerca lo spazio per il mancino poi inventa per Baluardi. Ora bravo Conti a sradicargli il pallone e a ripartire il break del set, il fallo del set avversario. Non secondo il direttore di gara, da questi a Ferrante. Buona la palla per Fabio che esegue anche un controllo orientato non cattivo, però insomma bravo anche Baluardi ad anticiparlo nelle intenzioni. Di Bitonto controlla e fa ripartire subito i suoi affidando la sfera a Fabio che a campo prova a partire. Sempre Fabio che fa esplodere il mancino. Bravo in questo caso da Silva a frapporsi sul tiro del numero 11 avversario. Seguiamo Conti che va da Pozzi da questi a Fabio davanti a sé a Baluardi. Lo sfida il numero 11 che poi cerca di inventare, fa fuori due uomini, poi va da Ferrante che verticalizza a sua volta da Conti. Riesce a gestire bene questo pallone, però Matteo Joros radica via e affida ora nuovamente la sfera il numero 1 a Pozzi che va da Fabio. Sfida un po' tutta la difesa avversaria e ora il numero 11 che si va un po' a impelagare in mezzo al traffico. Poi se ne esce bene, attenzione Fabio, ma l'arbitro affischiato ha indicato che il pallone è uscito. Andremo anche a rivedere magari dal nostro replay Fabio un po' polemico ora anche con il direttore di gara. Vediamo proprio ora. Insomma sembra un po' al limite da questa inquadratura, il pallone sembra addirittura dentro. Infatti Fabio caccia un occhiataccio all'assistente, tu cosa ne pensi Fred? Sì chiaramente l'assistente è posizionato un po' meglio di noi. Fabio però di solito non è uno che si lamenta molto di queste circostanze, qua l'ho fatto quindi effettivamente potrebbe essere anche lui in buona fede. Adesso buona la verticale di Neil a cercare proprio da Silva, ma la palla arriva Fabio che battaglia sempre su Neil, alla meglio il numero 11 che poi gioca dietro per Conti che va sempre da Fabio. In buca per Fadiga, qui malinteso 3-2, Fabio aveva messo comunque il pallone in una zona interessante però Fadiga era troppo avanti. Intanto esce ora proprio Fabio, adesso attenzione rischia tanto capisce tutto Ferrante. Disimpegno non felice da parte di Matteo, Ferrante per poco non riesce a centrare lo specchio della porta. Rivediamo anche ora dal nostro replay, rischiato tantissimo, Ferrante si è ripreso il pallone, poteva forse servire anche Fadiga, si vede bene da questa inquadratura, cosa ne pensi? Sì ho visto comunque un cenno di ok da parte di Fadiga, penso che comunque da quella posizione si potesse anche calciare, non è rilevato comunque a calciare nei migliori dei modi con il passo un po' lungo e non è riuscito ad inquadrare la porta. Dunque ancora Baluardi che va a giocare lunghissimo, adesso fase un po' confusionale del match. Dunque Falaschi può ripulire, va da Matteo il dribbling su Ferrante, cerca il dribbling anche su Fusca che non riesce. Poi il 24 si va a riprendere il pallone, pettina la palla col destro, Ferrante! Con un sinistro a incrociare, tenebroso, apre le danze, è 1-0, è il gol del prof, è l'ottavo centro di stagione. Ed è un grandissimo gol quello da parte di Ferrante, bravissimo Fusca prima nel recupero e poi il numero 24 ad incrociare con i piedi debole e con il mancino. Lo fa la perfezione per quello che vale l'1-0 degli ospiti. Un giocatore importantissimo per il Balza, ha trovato davvero un gol incredibile quest'oggi. È riuscito comunque ad aprire le danze ed è riuscito a farlo nella maniera più difficile. Rivediamo anche ora da replay come si va a prendere il pallone con prepotenza e poi come se fosse un mancino naturale incrocerà nella maniera migliore possibile. Ed è 1-0 Balza. Sì lo fa con forza tenendo anche le distanze dall'avversario e comunque Ferrante merita questo gol, sta disputando un'ottima partita, lo sta facendo con grande testa e anche da leader. Vedremo ora quale sarà la reazione della squadra di mister Alessandro Izzo, chiamata comunque a rispondere per raggiungere il terzo posto e cerca di farlo ora col destro di Matteo. Bravo Di Bitonto a distendersi e a deviare in fallo laterale. Dunque da Silva si sposta la palla sul sinistro per cercare l'imbucata. Bravo il Caimano ora a intervenire in maniera prolifica in fase difensiva e fa ripartire l'azione per i suoi. Azione affidata a Fusca, poi capisce tutto a Neil che prova a tramutare l'azione da difensiva offensiva. Buona la fitta di Neil, poi il sinistro Di Bitonto spettacolare qui a rimanere in piedi fino all'ultimo. Ma adesso seguiamo il Caimano che può ripartire, ma ancora Neil la pressione del set che davvero è su tutti i palloni. Poi prova a andare da Silva con la deviazione. E arriva un Di Bitonto puntualissimo sulla sfera, sventà del pericolo a deviare in calcio d'angolo. Una doppia parata incredibile per Di Bitonto. Vediamo anche ora qui. Sì, rivediamo qua la prima parata, quella con il piede che è molto difficile perché viene preso praticamente in controtempo. Ed ecco invece la seconda che sfiora appena con le unghie praticamente. Deve in calcio d'angolo, anche in questo caso molto difficile perché il tiro è stato deviato. Sempre molto attento di Bitonto. Poi sempre il numero 12 che esce ora dalla sua metà campo ma commette un'ingenuità clamorosa. Regale il pallone a Pozzi che va col Mancino! Alta, sopra la traversa. Si dispera ora il 9. Ha un passo da raddoppio il balza. Attenzione Ferrati col Mancino, ancora Balwardi, poi il Caimano! Alta, sopra la traversa. Qui se lo divore il Caimano, poteva fare qualcosina in più. Sì, poteva fare forse qualcosina in più però comunque lontano. Sì, forse evidentemente non era anche così facile. Ferrante, bravo comunque nella prima conclusione. Ancora una volta uno dei più pericolosi. Adesso attenzione, azioni da una parte e dall'altra. E adesso il destro di Gianneschi disinnescato da Di Bitonto. È pronto a rientrare Fabio? Gioca ora la sfera all'indietro per Balwardi. Verticalizza per Da Silva. Da questi ancora Balwardi! Di Bitonto! Incredibile col polpaccio destro! Cerca una soluzione, il numero 9. La cerca ora, favorendo Fabio. L'appoggia lì indietro per Conti. Non ci arriva. Ci arriva invece Falaschi che fa partire il destro. Bravo, può stimolarsi. E poi Balwardi! La riapre lui. La pareggia il 6. Col nono gol in campionato. Qui un'ingenuità di tutto il balza. Sono saliti tutti e due. Sia fatica che Conti. Fabio non ha trovato nessuno. Sì, però molto bravo Balwardi. Prima anche Falaschi per cercare subito lo spazio per concludere verso la porta. Poi Murato e attento subito Balwardi sulla prima conclusione. Rivediamo qui il pallone di Fabio. E poi sì, effettivamente salgono sia fatica che Conti. C'è l'errore da parte di Fabio probabilmente, però anche secondo me la parte di Fatica e Conti che replicano lo stesso movimento. e creano spazio per la ripartenza del Grosseto. Ferrante con la sola e il tacco. Riesce a alleggerirsi dalla pressione, ma attenzione a Neil che vada da Silva! Il tocco col tacco esterno. Un 1-2 micidiale dell'Atlante Grosseto a favorire il diciottesimo gol in stagione da parte di Rodrigo da Silva. Ora bello anche l'abbraccio col mister. Belle queste immagini. Fabio ingabbiato in mezzo al traffico. Cerca di adottare una soluzione affidando la sfera a fatica. Ora attenzione a spazio Neil per pungere. Vada da Silva il destro! Bravo Fabio a immolarsi sul tentativo del numero 3. Riesce a respingere e a neutralizzare il tentativo. Ma adesso di Bitonto va lunghissimo da Fabio che fa fuori i Gianneschi. Poi bravissimo il solito Neil su Fabio che tramuta l'azione della difensiva offensiva. Neil che poi vada da Silva! E arriva anche il gol del 3-1 da parte di Rodrigo da Silva. Diciannovesima realizzazione in campionato. Un monumentale Neil che riconquista l'ennesimo pallone della sua partita. Però tutto troppo facile per l'Atlante Grosseto. Sì, grande ripartenza la parte dell'Atlante Grosseto che va a un ritmo differente. in questa circostanza. E poi bravo da Silva con questa mezza punta praticamente a battere di Bitonto. Sempre cinico il numero 3 del Grosseto. Troppe maglie bianche davanti a sé. Quindi vada Conti che torna sempre da Fabio. Il dialogo è buono tra i due. Poi Conti fa esplodere il destro da metà campo. E arriva ora la sirena. Il punteggio alla fine dei primi 20 minuti di gioco dice. Atlante Grosseto 3, balza 1. Una bella partita. Il balza è partito bene. Però poi dopo non è stato più dietro i ritmi dell'Atlante Grosseto. Sì, buon primo quarto della parte del balza. E poi è calato totalmente nel corso degli ultimi 5 minuti. All'Atlante Grosseto ha trovato 3 gol nel giro di pochissimo tempo. Eccoci alla fine dei primi 20 minuti di gioco effettivi. C'è da dire un grandissimo Atlante Grosseto che sta imponendo il proprio gioco sul match. Il balza è partito anche bene. O perlomeno ha retto gli attacchi. Bello il gol di Ferrante che ha un po' inarcato quello che era il morale iniziale dell'Atlante Grosseto. Che però poi dopo è salito bene in cattedra. Fabio non benissimo. Sì, io penso che poi si vedano due nette partite dentro la stessa partita. Un primo tempo in cui magari nella prima fase il balza ha giocato molto bene l'Atlante Grosseto. Tra l'altro era anche abbastanza in confusione secondo me. Non l'ho vista benissimo sotto l'aspetto tattico. Ho visto anche diverse facce sconsolate. Poi gli episodi nel corso della ripresa sono andati più a favore dell'Atlante Grosseto. Chiaro, Fabio ha un po' due gol sulla coscienza. Due errori che secondo me erano inevitabili. Penso che comunque nel complesso ci sia anche un po' un errore nel collettivo. Il balza secondo me era già in un momento di calo ancora prima di prendere l'1-1. E c'è da dire che anche nel momento più buio dell'Atlante Grosseto di Bitonto ha fatto diversi interventi buoni. Il risultato comunque penso ci possa stare a favore dell'Atlante Grosseto. Secondo te cosa ci si deve aspettare Fred da questo secondo tempo in cui Fabio ha giocato davvero tanto. È partito nel quartetto finalmente dopo tanto tempo. È partito anche bene. Poi un po' come contro la posa Bologna è rientrato non all'altezza di quanto ha fatto almeno all'inizio di questa partita. Sì, assolutamente vero. Penso che non abbia iniziato male la partita. Magari c'era qualche circostanza che poteva fare un po' meglio in cui magari si è andato un po' in pelagare in una situazione con il destro. Poteva arrivare verso il tiro però non è entrato benissimo quando poi Andrei ce l'ha ridato fiducia verso gli ultimi minuti. Penso comunque come ho detto l'Atlante Grosseto in una fase di crescita e il balza in una fase di decrescita. E questo comunque ha favorito anche un suo ingresso non ottimale. Detto questo direi che noi possiamo andare ufficialmente dentro il secondo tempo sperando in una reazione del balza, sperando in una reazione di Fabio Di Mauro. Andiamo a seguire il secondo tempo. Vediamo se cambierà e come cambierà il risultato. Eccoci dunque in questo secondo tempo per vedere assieme quella che sarà la reazione da parte dei ragazzi di mister Veli Mirandrec chiamati a dare risposte sul campo. Sicuramente i bolognesi non hanno le stesse ambizioni dei toscani però devono comunque salvare la faccia e fare bella figura. Sì e l'hanno fatto nel corso del primo tempo specialmente nel primo quarto d'ora poi sono un po' calati verso il finale. Dall'altra parte è salito l'Atlante Grosseto e dimostrato di avere qualcosina in più sotto l'aspetto tecnico. Manca comunque tutto il secondo tempo vediamo se il balza riuscirà a cambiare la rotta. Poi rinviene molto bene Conti ma si va a riprendere il pallone Gianneschi che va da Nil che mette in moto Matteo che ora ha spazio per far esplodere il sinistro e lo fa! E arriva il gol di Niguez, David Matteo, il diciottesimo in stagione. E insomma parte nella maniera migliore possibile il Grosseto. Il balza è rimasto negli spuiatoi. Credissimo Mancino da parte di Matteo che riesce comunque a rientrare sul suo piede forte. Forse è un po' tutto troppo facile. Riesce a deludere la difesa del balza e a tirare un missile sotto la traversa. Bel gol da parte del numero 10. E adesso è 4-1 da parte dell'Atlante Grosseto siccome rivediamo anche dal replay sicuramente troppo solo il numero 10. Insomma già un giocatore di un certo livello se poi gli si lascia tutto questo spazio diventa facile. Un fallo laterale prezioso fidato ora ai piedi di Denis Fusca. Che va ora da Conti che vuole far esplodere il destro! Lo fa ora! Attenzione! Bravissimo in questo caso Brunelli che sventa il pericolo e si fa male anche alla mano sinistra. Sì molto bravo il tiro di Conti è molto potente è stato attento a chiudere il suo palo è parata molto difficile molto bravo. Adesso attenzione Conti con la sua la bene per Ferrante che cerca la verticale capisce tutto Nil ma capisce tutto sempre il 24. Bella la sfida ora tra Nil e Ferrante poi va al destro poco pretenzioso il numero 6 Baluardi che si perde ampiamente sul fondo. Calcio d'angolo anche dalla parte opposta per il balza in favore di Fusca che va da Ferrante e fa esplodere il mancino il 24. Palla alta sopra la traversa. Bene ora ripiegamento difensivo il balza poi Ferrante prolunga con la punta del piede destro questo pallone che può diventare interessante però rimane a terra. E Fusca depone fuori. Adesso problemi all'altezza del ginocchio per Ferrante che deve essere assistito. Intanto entra Fadiga ed esce Pozzi il 5 tra Stivic a cavale ed il numero 9 con Fabio ancora in panchina. Capisce tutto ora Nil che prova a ripartire con la collaborazione da parte di Da Silva. Prova ad accelerare ora Nil. Ruletta in mezzo a 2 poi in buca per Da Silva. Mamma mia che giocata qua da Nil. La riconquista ora molto bene Nil che innesca tu per tu Da Silva con Bitonto. Da Silva e arriva la tripletta del numero 3. Arriva la tripletta di Rodrigo Da Silva che va a esultare con la tribuna. Tutto troppo facile. Invenzione di Nil l'ennesima Da Silva confeziona la sua tripletta. Sì grandissimo gol da parte di Da Silva perché è lucido freddissimo davanti al portiere davanti a Ribitonto. Riesce a saltarlo con la sua la destra e poi infilarlo in scivolata con il difficilissimo lo fa sembrare facile. Qua forse Ribitonto avrebbe potuto leggere prima il pallone lungo però comunque tanti tanti meriti a Da Silva. E adesso viene chiamato anche il time out da parte di mister Veli Mirandrec che guarda praticamente in faccia 1 a 1 i suoi uomini. Non è sicuramente soddisfatto come potrebbe esserlo dopo un 5 a 1 sicuramente importante. Adesso secondo me Ferrante lo sprint su Falaschi. Poi cade giù Ferrante. Ma adesso attenzione perché il numero 24 è giù. Molto dolorante. Intanto il direttore di gara esibisce il primo cartellino giallo dell'incontro. Il primo per il grosseto. Esibito i danni di Tommaso Falaschi. Che adesso va anche a sincerarsi delle condizioni di Ferrante. Gli va a massaggiare la schiena. Bello comunque il gesto. Sicuramente non in un periodo positivo. Adesso Ferrante viene scortato e viene aiutato da Ettore Fadiga e di Bitonto a lasciare il campo. Ma adesso Fadiga che va da Conti che fa esplodere il destro. E per poco non c'entra il bersaglio grosso qui Robiconti. Super bike. Sì ancora una volta ci prova Conti da diversi tentativi e da diverse posizioni. Ha cercato la conclusione non è riuscito a trovare il gol e Balsa insiste. Davanti a sé troppe maglie quindi deve riprendere il gioco con calma. E con la collaborazione di Conti che fa esplodere un destro micidiale. Bellissima la parata di Brunelli che si distende e sventa il pericolo. Un pallone che sarebbe probabilmente finito all'incrocio dei pali. Bellissimo l'intervento del numero 12. Adesso attenzione questo calcio d'angolo battuto in fretta. Conti che rischia un po' sull'attacco di Nille. Gli sradica il pallone e il 7. Che poi va il tiro di Bitont e poi il palo. Se non ho visto male adesso ha rischiato in maniera incredibile super bike. Sulla pressione di chi? Se non Roya si dà il Gonil. Che sta facendo una partita fantastica anche in questo caso. Ha prodotto una cosiddetta offensiva molto interessante per l'Atlante Grosseto. Ma in generale sta facendo una partita strepitosa sotto l'aspetto difensivo e offensivo. Anche tanti assist forniti oggi. Gioquatore veramente molto forte. Conti prova a sprintare il 7 che va al sinistro. Poi bravo qui Brunelli a tenere la palla ai confini della zona gialla. E adesso il numero 12 a mettere in moto il solito da Silva. Verticalizza per Matteo il tunnel del 10 su Conti. Che poi ha tanto spazio davanti a sé. Vada da Silva. L'ha suolata su Pozzi. Poi va dentro per Galeota. E arriva anche il gol di Galeota. Il terzo in stagione. Da Silva ne ha fatti tre oggi. Ha detto il quarto. Io lo faccio fare a Mattia Galeota. Sì grandissima giocata prima di Matteo. Sulla fascia sinistra che va via. Tra l'altro con un tunnel con il piede debole con il destro. E poi trova da Silva che con una lucidità fantastica. Riesce a giocare il pallone con la suola. E poi a servire Galeota che è da lì. Non può sbagliare. Il gol del 6 a 1. Adesso il risultato diventa comunque mastodontico. E il Balza deve comunque provare a giocare la partita. E fare il meglio possibile. Perché non è mai bello finire con un passivo pesante. Un po' come è successo con l'Olimpia Regium. Dunque Pozzi pulisce e rifinisce. E gioca per fatica. Che torna sempre dal numero 8. Che carica il sinistro. Andrea Simone. L'Euro goal da parte del fratello di Fabrizio. Che segna in questo modo la sua prima realizzazione in Serie B di Futsal. Sì bellissimo gol perché prima riesce a scartare da Silva. Non uno qualunque. Poi calcia con il mancino il piede debole. E trova dopo la traversa un bellissimo gol. Sicuramente molto importante per lui. Sendo il primo con i grandi. Adesso comunque è il gol del 6 a 2. Sì un gol sicuramente. Bellissimo. Sotto il punto di vista anche balistico. Baccia la traversa. E poi dopo finisce in porta. Anche per rendere il passivo meno pesante. No? Di quello che è stato fino ad ora. Un gol che dà morale. Intanto c'è il cambio. Entra Fabio. Esce Ettore Fadiga. Vedremo in questi ultimi 5 minuti di gioco. Come si comporterà il fantasista del balza. Oggi sicuramente un po' Paco. Da questi ancora al 7. Poi Cipollini. Riceve ora il pallone. Cerca l'1-2 con Gianneschi. Lo trova. Attenzione Cipollini tutto solo davanti a Dibitonto. Parte il destro. Dibitonto in spaccata con la caviglia sinistra. Esorcizza il pericolo. Gianneschi quando mancano 3 minuti e 56 secondi di gioco alla fine dell'incontro. Il capitano va da Nil. Tutto solo al centro. E arriva anche il gol di Royal Sidalgo Nil. L'NVP dell'Atlante Grosseto. Che trova la gioia. Trova la sua ottava marcatura in questa stagione. Settima in campionato. Va da Fabio. Sfida un po' tutta la difesa. Poi dialoga con Fogli. Che torna sempre dall'11. Da questi a Fusca. Che gira bene ora il pallone. Lo fa con l'aiuto di Simone. Che verticalizza sempre per Fabio. Che si gira. E va da Fogli. Da questi a Fusca. A premiare sempre Simone. Che si sposta la palla sul sinistro. Questa volta non usa il piede debole come abbiamo visto in precedenza. Dunque rimessa in gioco in favore dell'Atlante. Ma adesso seguiamo Fabio. Che sfida Cipollini. Poi torna sempre da Fusca. Che va a pescare sempre Fabio. Bellissima qui la trama di gioco costruita dal 2 e dall'11. Bello lo scarico di Fabio. Poi a cercare spazio. A trovarlo. E con il destro non è riuscito però. A impenserire il portiere avversario. Sempre in gestione il numero 2. Che va dal 4. A cercare ora Casper. Bravo Fabio in mezzo al traffico. Poi però la palla arriva in un qualche modo. Al numero 11. Cardone. Fogli che va innescare Fabio. Che sfida tutta la retroguardia avversaria. Va con la punta. Ha un tiro cross. Poi tocca Fogli. Diventa un assist il tiro di Fabio. Però non riesce a recepire nella maniera corretta Fogli. Complice anche comunque l'ostacolo Cipollini. Seguiamo proprio ora la rimessa in gioco del giocatore polacco. Che va ora all'indietro da Cipollini. Lo attacca Fogli. Riconquista la sfera. Il numero 17. Forse con una mano. Non secondo l'arbitro. Fogli va da Fabio. E arriva il gol di Fabio Di Mauro. Che trova la sua seconda marcatura consecutiva. Un bellissimo gol. Riesce a minimizzare i tempi tra stop e tiro. Sì. Molto bravo Fabio. Che riesce questa volta. A differenza del primo gol stagionale. Utilizzare solo il sinistro. E lo fa molto bene. Prima con il controllo. E poi immediatamente con il tiro. Fucilata incredibile. E batte il portiere per quello che vale il 7-3. Un gol comunque importante. Sotto il piano della fiducia. Sotto il piano del morale personale. Seppure alla fine il punteggio è pesante. E adesso si aspetta la sirena. Sirena che arriva ora. E finisce così. Il gol finale di Fabio rende l'epilogo un po' meno drammatico. Il punteggio finale però dice. Atlante-Grosseto 7. Balza-Poggese 3. Sì. Il Balza tra l'altro aveva iniziato anche bene questa partita. Poi si è un po' perso. Verso il finale del primo tempo. E anche poi nel corso della ripresa. Atlante-Grosseto comunque salito in cattedra. Ha dimostrato di avere qualcosina in più anche sotto all'aspetto tecnico. Eh sì. Adesso bisogna ripartire tra due settimane per chi c'è la sosta. Noi intanto adesso andiamo a sentire quelli che sono i nostri ospiti speciali. E andiamo alle nostre interviste. Eccoci nel post partita di Balza-Atlante-Grosseto. Il risultato finale della ventiduesima giornata del campionato di Serie B di Fuzz al Dice. Atlante-Grosseto 7. Balza 3. Sì. Abbiamo visto comunque una bella partita principalmente nel primo tempo. In cui il risultato era abbastanza in equilibrio. Poi è salito in cattedra l'Atlante-Grosseto. Che comunque ha dimostrato di essere superiore anche a livello tecnico. Il Balza comunque sì. Ha iniziato bene. Ha giocato un ottimo primo quarto d'ora. Poi c'è stato un calo che si è protratto anche nel corso del secondo tempo. Balza comunque non ha disputato la migliore partita per ce la dirlo. Gli avversari oggi erano molto forti. Eh sì. Avversari molto forti non è un caso. Se sono i quarti della classe c'è da dire che poi hanno perso due posizioni nelle ultime tre giornate. Se no sarebbero stati comunque più avanti in classifica e si sono tolti tutte le partite più complicate. Quindi anche questo la dice lunga su due. Può arrivare l'Atlante-Grosseto. Secondo me l'inizio un po' a rilento è stato anche frutto delle ultime prestazioni. Un po' lo spettro delle ultime sconfitte. Penso che abbia iniziato male anche per questo motivo. Ricordiamo che al balza oltre a Calaia purtroppo finito fuori rosa mancava anche Fabrizio Simone. Un Gigi Ferrante non al top che poi ha anche dovuto uscire il secondo tempo a seguito di un altro infortunio. Non gira neanche la fortuna nella ruota del balza. È vero poi penso comunque l'assenza di Simone sia molto importante perché è un giocatore che dà equilibrio alla squadra. Oggi mancava soprattutto l'equilibrio e soprattutto in situazioni di partita molto difficili. Inoltre mancava anche Toschi che si è dimostrato un elemento molto prezioso nelle ultime giornate. Noi come sempre adesso iniziamo il nostro giro di interviste. Partiamo da lui. Partiamo dal mister dell'Atlante-Grosseto. Alessandro Izzo. Andiamo da lui. Eccoci nel post partita di Atlante-Grosseto-Balz. Una bellissima partita da parte dei tuoi ragazzi. Alessandro Izzo volevo farti innanzitutto i complimenti perché avete giocato davvero molto bene. Siete partiti un pochettino sulle gambe e dopo però avete recuperato bene. Qual è stata la tua interpretazione della partita? No, hai detto esattamente tutto. Innanzitutto buonasera a tutti e complimenti per il servizio che hai dato. Noi abbiamo fatto dei primi dieci minuti. Hai detto bene te, non alla grande, per usare il neofemismo. Merito anche poi del balcapogese perché poi non dimentichiamoci che questa squadra con il mercato che ha fatto a dicembre se inizia la stagione in questo modo la finisce tra le prime cinque. Noi veniamo da un calo. Quindi capisci bene che è un periodo che appena apriamo un tiro prendiamo gol. È successo anche oggi. Bravissimo Ferrante tra l'altro però ci fanno male. Però siamo stati poi bravi a reagire. Abbiamo dovuto trovare il gol liberatorio per poi sbloccarci. Poi il suo tempo credo che è un po' calato il balca. Siamo saliti un po' noi e quindi si è resa un po' più facile la cosa. Dove può arrivare l'Atlante Grosseto visto oggi? Che si è ripreso alla grande, ha avuto una prestazione incredibile soprattutto nella seconda frazione dove a mio dire ha monopolizzato la partita, ha chiuso i giochi. E dove può arrivare anche considerato che la San Giovannese che è via avanti di due punti ha due scontri diretti con Olympia Regium e Bologna. Sì, io sinceramente non guardo loro. Noi sappiamo bene che se ripetiamo i punti dell'andata siamo in Serie A. E questa squadra se fa l'Atlante è in Serie A. Ci possiamo complicare solo la vita da soli e non deve succedere. Abbiamo avuto un calo, un calo ce l'hanno tutti però deve finire lì. Allora noi facciamo un grossissimo in bocca al lupo all'Atlante Grosseto. Grazie mille mister per l'intervista che ci ha concesso, è stato davvero gentilissimo. Grazie, complimenti a tutti voi. Grazie mille mister. Eccoci quindi con Fabio nel post partita di Atlante Grosseto-Balsa. Insomma risultato abbastanza netto. Però comunque oggi sei partito per la prima volta da titolare. Come è stato il tuo approccio secondo te e come è stato appunto partire nei primi cinque? Sì, mi ha fatto piacere partire titolare, sicuramente è un obiettivo raggiunto. Non sono troppo soddisfatto né della prestazione collettiva che personale. Era una partita molto dura, molto difficile. Purtroppo è andata così. Poi sicuramente loro hanno anche più obiettivi, si può dire. Puntano ad arrivare in zone più alte, mentre noi diciamo che è un po' complicato, abbiamo poco da giocarci. Ci mettiamo comunque tutto quello che possiamo da ogni partita. Però è chiaro che il psicologimento è un po' più difficile per noi. Pensi che per quanto riguarda invece il gol dell'1-1, c'è stata un po' l'incomprensione tra te e Conti in quel caso? È stato un errore più di idee o proprio di esecuzione secondo te? Penso più di idee, perché siccome non era neanche eseguito male. Pensavo che Conti restasse fermo, invece ha continuato lungo e non me l'aspettavo diciamo. Adesso a posteriori penso che avrei dovuto metterla giù e aspettare. Invece ho avuto un po' di fretta di passarla a Conti, perché pensavo che magari passandoli là sarebbe riuscito ad allungarsela e andare verso la porta. Diciamo un po' un'incomprensione tra noi due e purtroppo abbiamo preso gol. Noi adesso andiamo a sentire le domande di Antimo. Eccoci Fabio, anche con le mie domande e con le mie considerazioni. Sì, oggi sei partito titolare per la prima volta, sei rientrato nel quartetto, nel quintetto, qualsivoglia, se si include il portiere. Detto questo, sei entrato secondo me molto bene in partita. Poi hai fatto un po' lo stesso errore di Aposa, nel senso quando sei rientrato per la seconda volta, dopo che sei uscito là al campo, sei entrato un po' fiacco. Cos'è che è mancato? Un po' di disordine generale, ma Fabio cos'è mancato? Sì, diciamo che essendo ancora inesperto, devo ancora essere un po' trascinato dagli altri sotto il punto di vista organizzativo. Non essendoci molto ordine in campo, anzi per niente. Poi diciamo che sono andato anche in difficoltà e molte volte ero indeciso su cosa fare. Magari a volte trovandomi senza opzioni. Detto questo, Fabio c'è anche da ricordare che oggi è arrivato il tuo secondo gol in Serie B di Fuzzle. Alla fine un traguardo importante. Seppur il risultato è stato netto, comunque resta la soddisfazione di aver siglato la tua seconda marcatura in una competizione come la Serie B. Sì, diciamo che conta poco, alla fine è stato un po' un gol della bandiera. Vabbè, comunque a livello personale ci sta, dal punto di vista dei numeri va bene. Prende sopra il vento il dispiacere per la partita, per la prestazione generale. Dopo i gol cercheremo anche gli assist. Detto questo, noi ora possiamo andare definitivamente in chiusura. Tra l'altro Fabio abbiamo una sorpresa per te, abbiamo degli ospiti che sono venuti a trovarti, dei fan. Allora ragazzi, noi possiamo andare in chiusura e andiamo in chiusura oggi con due ospiti speciali che ci sono venuti a trovare al Palabombonera di Grosseto, ovvero Enrico e Andrea. Presentatevi, Enrico. Buonasera a tutti, da tempi non sospetti, recenti, sono iscritto al canale di Fabio, grande giocatore. Più grande giocatore o grande youtuber? Qui è molto difficile, ha grandi qualità in ambo i ruoli, questo è poco ma sicuro. Te da quanto tempo invece lo segui Andrea? Io l'ho scoperto grazie a lui, perché mi mandava i video nel gruppo e ora mi comincerò un po' più a passionare. Ci sta, e ti piace più a te come giocatore o invece come youtuber? Tutte e due. Io lo dico sportivamente a Fabio, alla fine devo ammettere comunque ha fatto anche un bel gol. Quando si gioca diciamo in una squadra sfavorita, svantaggiata sulla carta, secondo me quello che conta è anche crescere diciamo personalmente, migliorarsi per poi emergere magari in vista proprio del futuro. Peccato che Balsa Poggesi dopo un periodo difficile di risultati è stata la vittima da sacrificare, questo è l'unico dispiacere. Grazie ragazzi per aver visto questo video fino alla fine, noi come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Mi raccomando siamo ridosso di 100.000 iscritti, iscrivetevi al canale, il 75% di voi non è iscritto quindi fatelo, rimediate adesso. Mi raccomando come sempre lasciate anche mi piace e tantissimi commenti al quale risponderemo nel prossimo episodio. Con la serie B di Fuzzle ci vediamo tra due giovedì, settimana prossima al suo posto, data la sosta ci sarà un contenuto inedito. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Al prossimo video. Forza Grosseto sempre. Sempre. No, no, no. Non tifo Grosseto però sempre. Ciao ragazzi.